Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale 35enne trovato con 11 dosi di droga nell'auto arrestato dai carabinieri di Fossombrone Utente indignata per le condizioni igieniche dei bagni del CUP di Fano Gli studenti del Nolfi incontrano Ivan Cottini, la sua vita, un esempio per tutti Stefano Aguzzi replica la provocazione dell'ex sindaco di Saltara, Uguccioni Io cincinnato? Non c'è nulla di male A Fano è arrivata la moda dei soffiti, lasciate le scarpe sui fili della luce Nobili per un giorno sono gli studenti dell'Olivetti di Fano Che indosseranno costumi d'epoca per una rievocazione storica Buonasera, benvenuti a Occhi alla Notizia Apriamo con la cronaca, carabinieri in azione, questa volta a Fossombrone Nel primo pomeriggio di oggi durante un controllo hanno fermato un'autovettura Con a bordo un 35enne del posto L'uomo con il suo atteggiamento nervoso ha però insospettito i militari Che hanno deciso di condurlo in caserma per procedere ad una perquisizione personale e del mezzo Il 35enne messo alle strette ha consegnato un frammento di Aschis Sperando di eludere un controllo più approfondito Ma nella sua auto i carabinieri hanno rinvenuto in un vano ben occultato Tra i due sedili anteriori ben 11 dosi di cocaina già confezionata e pronta per lo spaccio Inoltre nell'abitazione di Cartoceto sono saltati fuori anche alcuni grammi di marijuana L'uomo, un 35enne originario del Modenese, è stato così arrestato per detenzione Ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari Oggi il giudice del Tribunale di Urbino ha convalidato l'arresto Ed inflitto una pena di 4 mesi e 1200 euro di ammenda con pena sospesa Ed ora vi abbiamo sempre detto quanto le vostre segnalazioni siano importanti Naturalmente i vostri occhi sulla città sono i nostri occhi E la segnalazione di una nostra telespettatrice questa sera ci porta E nei bagni del CUP dell'ospedale di Fano per condizioni igienico-sanitarie alquanto precarie Vediamo il servizio Situazione igienica che lascia desiderare quella riscontrata da una nostra segnalatrice Nei bagni al piano terra del CUP dell'ospedale di Fano Ieri mi sono proprio arrabbiata perché ho notato per l'ennesima volta che mancava la carta igienica Mancava la saponetta, mancava l'asciugazione, il coso per asciugare le mani non esisteva I pavimenti di una sporcizia indescrivibile, insomma tutto in uno stato proprio da terzo mondo In vani i tentativi della signora di rivolgersi come l'è stato consigliato all'URP, ufficio relazioni con il pubblico E chiedo, su signora, qual è la stanza dell'URP? L'URP? Cos'è l'URP? Boh, me ne esce una signora, ma cerco l'URP, mi hanno mandato qui perché devo fare un reclamo Ma non sappiamo, come non sapete? Fuori dalla porta, c'è tanto di targa con scritto URP, oltre a tutte le altre cose Poi arriva un'altra signora e mi fa, ah ma forse sì, ho capito, ma forse si è trasferita a Pesaro Una delle cause di questa situazione pare essere l'utilizzo dei bagni da parte di persone esterne all'ospedale Che soprattutto nelle prime ore del mattino usano la struttura non avendo probabilmente un altro luogo dove andare A maggior ragione, ho detto, se viene adoperato da gente estranea, a maggior ragione deve essere più curata la pulizia Perché questo diventa un veicolo di infezioni e un ospedale non può permettersi questo Per cui si deve presentare pulizia, assetticità e soprattutto protezione per chi adopera quei servizi Quindi alla signora Maria non resta altro che fare un appello per cercare delle risposte a questo problema Un appello sentito a nome di tutti quanti perché penso che questo è un problema che parecchi cittadini lo sentano Perché poi dopo chi mi vedeva fare le foto mi diceva brava signora, brava signora, ok brava signora, però insomma qualcuno si deve muovere Ancora di cronaca, i carabinieri della stazione di Montecchio di Vallefoglia hanno arrestato in flagranza di reato Un diciottenne domiciliato a Cattolica, già noto per i trascorsi giudiziari disoccupato e ritenuto responsabile di un tentato furto aggravato Il giovane in compagnia di un complice a luna di notte circa di ieri a Tavuglia è stato sorpreso dai militari Mentre tentava di introdursi all'interno della pizzeria Sexy Pizza I due vistisi scoperti si sono però dati alla fuga L'arrestato salendo in sella ad un ciclomotore rubato a febbraio è stato bloccato subito dai carabinieri Mentre il complice è scappato a piedi nei campi attorno al locale Rinvenuti 217 euro, provento dell'attività probabilmente di spaccio 7 grammi di hashish per uso personale e per questo sarà segnalato in procura Inoltre il 18enne è stato denunciato anche per ricettazione del ciclomotore E' condotto in carcere dove si trova tuttora dopo la convalida dell'arresto E la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Pesaro su richiesta del PM Ed ora vi parliamo di un'iniziativa degli studenti dell'Istituto Nolfi di Fano Che in questi giorni stanno dando vita all'autogestione Tre giorni di laboratori, assemblee e dibattiti Questa mattina ospite atteso ed eccezione Ivan Cottini Vediamo Ogni volta che mi metto a scrivere un pezzo su Ivan Cottini Sono preso dall'irrefrenabile voglia di descriverlo come uno di noi Uno come tanti ragazzi della sua età che viaggiano, vivono, stanno in famiglia Che hanno amicizie e a cui piace stare in compagnia Nulla di speciale, ma poi mi accorgo che Ivan di normale non ha nulla Conosco come molti la sua storia e le sue peripezie Il suo calvario per le scelte fatte e la parola normale Si sgretola come un castello di sabbia sotto il suo sorriso e la sua voglia di vincere No expression Oggi quel sorriso l'ho incontrato e l'ha regalato all'auditorio dell'Istituto Nolfi Gremito di 200 ragazzi Invitato da coloro che stanno organizzando le giornate di autogestione Che volevano sentire la sua storia e conoscerlo di persona Per me l'emozione è sempre tanta Poi vedere questi ragazzi che si appassionano, guardano la mia storia Vedono i muri che la vita purtroppo mi ha messo davanti Ma che io sono riuscito ad abbattere E questo è un insegnamento che voglio portare Dovranno capire che la vita è bella Ma la vita metterà di fronte tanti muri E questi ragazzi quando si troveranno di fronte a quel muro Devono essere pronti a tirar fuori gli attributi E ad abbattere quel muro come ho fatto io Ivan come sempre non si è sottratto al difficile compito di dare un esempio Una testimonianza E tra i ragazzi frementi ha dispensato sorrisi a tutti Cambiamo argomento garantire la stabilità nel tempo delle nostre strade Con interventi mirati di manutenzione Si è parlato di questo in un workshop tenuto questa mattina Nel Teatro della Fortuna di Fano Nella Sala Verdi C'era per noi a seguirlo Fabrizio Naticchi Oltre 400 chilometri di strade da mettere in sicurezza Prestando attenzione alle risorse delle amministrazioni comunali Spesso troppo poche In contrasto con una manutenzione sempre più frequente Dovuta soprattutto agli improvvisi cambiamenti climatici Così il sindaco Massimo Seri È intervenuto oggi nel workshop Sull'ottimizzazione della manutenzione Della pavimentazione stradale Organizzato dal comune di Fano Nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna 16 abbiamo asfaltato oltre 50 chilometri di strade E lo abbiamo fatto con professionalità Facendo anche una convenzione con l'università Per verificare i lavori Perché sempre più i lavori devono essere di qualità Poiché le amministrazioni comunali Hanno sempre meno risorse a disposizione Quindi è necessario pensare anche all'innovazione Alle nuove tecnologie che possono dare risultati migliori Anche di stabilità nel tempo All'evento, giunto alla sua seconda edizione Era presente anche l'assessore ai lavori pubblici Del comune di Fano, Cristian Fanesi Che ha parlato dell'importanza della collaborazione Con l'università di San Marino Per quanto riguarda studi effettuati sul terreno Che hanno permesso di avere un'analisi personalizzata Dei vari tipi di suolo Nell'ottica di garantire la stabilità nel tempo Delle nostre strade Questo qui è un effetto ovviamente positivo Che fa bene al comune di Fano Fa bene alle sue casse Perché evidentemente si possono vedere Come dal 2013 Sono diminuite le richieste costantemente Abbiamo ottenuto un'assistenza tecnica Che ci ha permesso di fare il carotaggio Quindi la sezione delle nostre strade Una per una Per avere una risposta personalizzata Quando poi siamo andati ad asfaltarle E abbiamo fatto poi successivamente Un'altra campagna di carotaggi Per vedere il prima e il dopo E capire se abbiamo fatto bene Se le ditte hanno fatto bene il loro lavoro E soprattutto per vedere se le risposte Che stiamo dando personalizzate per ogni strada Sono risposte adeguate alle esigenze Un aperitivo con il sindaco E questo è il nome scelto dal primo cittadino Massimo Seri Per una serie di incontri Che hanno come obiettivo Quello di mettersi al servizio del cittadino Ascoltando proposte, idee, testimonianze Di tutti coloro che In maniera informale Vorranno comodamente seduti al tavolo di un bar Colloquiare con il sindaco della città Su vari aspetti della vita di tutti i giorni Ad inaugurare questa nuova fase di ascolto-confronto Sarà il bar pasticceria Le Terrazze In cui si terrà il primo aperitivo Con il sindaco Giovedì 30 marzo A partire dalle ore 18 E il giorno prima Mercoledì 29 Invece ci sarà qui Nel studi di Fano TV Primo cittadino Proprio con Massimo Seri In concomitenza anche Di quella serie inaugurata Proprio da lui Di far vivere a un cittadino comune L'esperienza di fare il sindaco per un giorno Appunto sindaco per un giorno E Massimo Seri Saranno presenti Mercoledì 29 Qui negli studi di Fano TV Per la puntata di Primo cittadino Nella quale voi potrete interagire Proprio con lui E porgli domande e quant'altro Insomma quindi Appuntatevi questo appuntamento Ed ora parliamo di un evento Che si terrà Sabato pomeriggio Protagonisti sono i ragazzi Dell'Istituto Olivetti Chiedere è lecito Rispondere è cortesia Ma la lettera del Presidente Della Repubblica Mattarella Inviata in risposta Agli alunni Dell'Istituto Olivetti di Fano Che lo avevano invitato Alla loro terza edizione Di una serata Con i nobili Petrucci Ha lasciato tutti Un po' increduli E stupiti Di ricevere Quotanta attenzione Dal Capo dello Stato A riguardo Mi spiace molto Dovervi informare Che il Capo dello Stato Non può accogliere La vostra richiesta Dovendo rispettare Impegni istituzionali Già presi per quella data Certo della vostra comprensione Ed esprimendo il più vivo Apprezzamento per l'entusiasmo E l'impegno che mettete In questa iniziativa Invio i saluti E gli auguri più cordiali Da parte del Presidente Mattarella L'indomita insegnante Anna Ucci A cui nulla pare irrealizzabile Assieme ad altri docenti La preside E tanti alunni In bellissimi costumi Rinascimentali Daranno vita Ad una full immersion Nelle atmosfere Che alleggiavano a palazzo Tra il 1500 Ed il 1600 Ogni giorno Entrando nella nostra scuola Abbiamo la fortuna Di respirare La storia Del nostro passato Ed è veramente incredibile Pensare che i luoghi Che noi percorriamo Ogni giorno Hanno ospitato Una famiglia nobile Della quale non conosciamo Molto Ma che ci piace Immaginare e ricordare Perché con quei personaggi Abbiamo in comune Luoghi e tradizioni Una serata Con i nobili Petrucci E più di una rievocazione storica E un evento culturale Con l'obiettivo Di affascinare Alla storia Gli alunni Vivendola da protagonisti E non come esercizio Meramente nozionistico E di aprire L'istituto Alla cittadinanza Appunto Siamo alla terza edizione Di questa rievocazione storica Di questa famiglia Petrucci Che ha così abitato All'interno di questo palazzo Che adesso Noi oggi abbiamo la fortuna Di vivere Comunque ecco Quest'anno Tra l'altro Ci sono anche delle novità Nelle partecipazioni Perché oltre alla Pandolfaccia Che ormai Collabora con noi Abbiamo L'orchestra da camera Contrarco E invece appunto Come novità Quest'anno abbiamo Il coro Giovanile Malatestiano Diretto appunto Da Francesco Santini E l'associazione Del pallone col bracciale Di Mondolfo Ecco E poi Naturalmente abbiamo sempre Il nostro Ivan Cottini Da che ora Che ora Vi si potrà venire a trovare Partiamo alle 16 Fino a 19.30 19-19.30 Noi siamo qua E vi aspettiamo numerosi Bene qualcuno di voi Alzando gli occhi al cielo Ogni tanto Le avrà notate Sono delle scarpe Appese A dei fili Della luce Dell'alta tensione Ebbene Arriva anche a Fano La moda Delle sciuffiti Sono arrivate Nei giorni scorsi Alla nostra redazione Segnalazioni che parlavano Di misteriose scarpe volanti Avvistate dai cittadini Sui cavi Delle linee elettriche Telefoniche E così Dopo esserci assicurati Che i nostri segnalatori Non avessero alzato Troppo il gomito Telecamera e spalla Siamo partiti Alla ricerca Del nostro modello preferito Ha lanciato pure le sue Oppure ce le ha ancora Legate ai piedi? Io spero Che ce le abbia Un altro paio ai piedi Poi le ha messe su In questo filo Fa anche un po' arredamento Diciamo che Aiuta a rendere Un po' più Americana Anche la nostra Fano Il fenomeno In realtà Si chiama Sciuffiti Italianizzato In scarpe volanti E nasce nelle zone Rurali e urbane Degli Stati Uniti Come manifestazione Delle proteste Adolescenziali Ma in merito Al vero significato Di questa misteriosa Tendenza Sono diverse Le interpretazioni Ancora non del tutto Chiare e definite Che variano ovviamente A seconda del contesto E delle realtà urbane La parola infatti Deriva dall'unione Di due termini Shoe Scarpa E graffiti Intesi come L'espressione artistica Di un disagio Generazionale E sociale E si va dunque Dall'indicazione Di luoghi Per lo spaccio Di droga Alla segnalazione Di un imminente Matrimonio O alla comunicazione Di servizio Dell'avvenuto consumo Del primo rapporto Sessuale E poi La noia Il bullismo L'ubriachezza Spiegazioni Che danno adito E alimentano Le più disperate Leggende metropolitane Anche grazie al web Le origini Dello shoo-fiti In realtà Sono state accostate All'ambito militare Pare infatti Che i soldati Avessero l'abitudine Di legare Tra loro Gli anfibi Spesso dipinti Di colori diversi E accesi E lanciarli Per festeggiare La fine del servizio Di leva Momento difficile Della loro vita E quindi Speriamo che anche da noi Appendere le scarpe Al filo Possa diventare Simbolicamente Un modo per indicare La fine Di un brutto periodo Per i nostri giovani Bene Dopo le dichiarazioni Apriamo una parentesi Politica Di ieri Dell'ex sindaco Di Saltara Ugucioni Sugli scenari Del voto Che si sta aprendo Nel comune Neocreato Di Colli Al Metauro E l'ascesa in campo Dell'ex sindaco Di Fano Stefano Aguzzi Pronta Arriva La sua replica Proprio alle affermazioni Di Ugucioni Sentiamo Aguzzi Allora Un parallelismo Tra lei E Cincinnato Insomma Le garba Mi fa un po' strano L'unica cosa Che mi accomuna Cincinnato Che entrambi Siamo due agricoltori Lui lo era Io lo so Attualmente Poi Cincinnato Non è che sia una figura negativa Nell'antica Roma Anzi è stata una figura positiva Che in più di un'occasione Ha potuto accrescere Roma Difendendola anche da attacchi Di altri popoli Ma nulla c'entra Con l'attuale situazione Di Colli Al Metauro Dove non c'è nulla Da liberare Non c'è nulla Da dover cambiare In maniera drastica C'è da far crescere Nascere una nuova comunità Questo sì Ecco Insomma La polemica è anche sul fatto Che la sua scesa in campo Eviterebbe che si formino I climi giusti E le giuste coalizioni Secondo lei? È proprio il contrario Lei una politica Diciamo così Sbagliata Troppo forzata Proprio da parte Di Uguccioni E del suo partito Del partito democratico Ha portato A una forte divisione Della comunità Di Colli Al Metauro Una forte divisione E scontro Al momento del referendum Tuttora ci sono ricorsi Pendenti su questo Uno scontro Un po' Tra vari campanili Ecco Questa forzatura Proprio fatta Dal partito di Uguccioni E da lui in persona Hanno portato Un clima poco sereno Di confronto Ecco Questa mia candidatura Avverte proprio su questo Una persona Che non è Di nessuna Delle tre comunità Coinvolte Una persona Che non ha partecipato Allo confronto Scontro Tra il sì O il no Referendum Insieme Ad una lista civica Fatta da persone Donne e uomini Giovani Soprattutto Di tutto Il territorio Di Colli Al Metauro Che possono portare Davvero Una ventata di novità Ecco Credo che possa Proprio far crescere Quel clima Positivo Per portare avanti Una nuova comunità E un nuovo comune Proiettato verso il futuro Ecco Il tema Dell'edizia scolastica È il tema Principe Di questa campagna Secondo lei È uno dei temi fondamentali Non è l'unico tema Noi stiamo predisponendo Il programma Ci concentriamo Particolarmente Su alcune questioni L'altra volta Ho parlato già Di sanità Ma ci torneremo Per quel che riguarda Le scuole C'è una situazione Assai problematica Anche in questo caso Proprio nella comunità Dove governava Claudio Cuccioni Perché poi A Serongarina Tavernelle C'è una situazione Abbastanza felice Ugualmente anche A Montemaggiore Al Metauro Il problema più grosso È proprio Calcinelli e Saltara Su questo Occorre concentrarsi Fortemente Credo che Nei prossimi 5 anni Nel giro di una legislatura Occorre creare In quel territorio Una nuova scuola Una scuola media Probabilmente Su questo comunque Lavoreremo di concerto Con la direzione scolastica Perché non è che Un'amministrazione Può scegliere Senza coinvolgere Gli attori principali Cioè i docenti E le famiglie Ed ora chiudiamo Parlandovi delle bellezze Naturali e paesaggistiche Della nostra provincia È la riserva naturale Del Furlo Del comune di Aqualagna La prima riserva statale Della nostra regione A ricevere il premio europeo Per il turismo sostenibile Passo importante Per l'economia turistica Della nostra regione Il servizio di Filippo Pucci La riserva del Furlo Gestita dalla provincia Di Pesaro Urbino È in Italia La prima riserva naturale Statale A ricevere la carta europea Del turismo sostenibile Riconosciuta finora A 33 parchi naturali E due riserve Facenti capo A regioni E comunità montane A ricordarlo È il presidente nazionale Di Federparchi Giampiero Sammuri Che ha consegnato Al presidente della provincia Daniele Tagliolini La certificazione Con carta europea Del turismo sostenibile La certificazione È arrivata a conclusione Di un percorso Durato due anni Che ha visto Oltre 30 soggetti Pubblici e privati Operanti nell'area protetta Collaborare per definire Un piano d'azione Per lo sviluppo turistico Della riserva In chiave sostenibile Il tutto Coordinato dalla provincia Che ha promosso Innumerevoli incontri Sul territorio Proprio per arrivare Allo sviluppo Di strategie comuni Il presidente Tagliolini Infine definisce Questo avvenimento Non un traguardo Ma il primo Di una serie di passi Per un costante miglioramento Nella gestione Del turismo Nell'area protetta A favore dell'ambiente Della popolazione locale Delle imprese E dei visitatori È una zona bellissima E molto affascinante Bene Grazie per essere stati In nostra compagnia Io mi fermo qui Per questa edizione Di Occhio alla Notizia L'informazione torna Domani mattina Naturalmente Con la lettura Dei giornali Dei titoli E Occhio ai giornali Alle 7.30 Puntualmente Sempre qui su Fano TV Canale 17 E naturalmente Non mi resta altro Che augurarvi Un buon proseguimento Di serata Grazie a tutti